La società creativa 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 Vorremmo anche parlare della società creativa, della costruzione della società creativa. Sai, nel cristianesimo, in particolare nell'ortodossia, ci hanno insegnato che l'amore per il prossimo non è solo un sentimento, ma è un'azione diretta che consiste nell'aiutare un povero o salvaguardare una persona da alcuni pericoli che, in generale, ci hanno insegnato un sacco di cose che rendono possibile attuare effettivamente. Non è che dobbiamo. Questo dovrebbe essere il nostro bisogno. Giusto. Non è un debito come quando dobbiamo qualcosa a qualcuno. Dovrebbe essere la nostra vita naturale. Gesù non ha parlato della società creativa stessa? L'ha fatto. L'ultimo profeta, il più grande tra gli uomini, non ha parlato della società creativa. L'ha fatto. E di cosa hanno parlato? Parlavano della società creativa. Ragazzi, questo è solo un nome. Sono epiteti. Hanno descritto come dovremmo vivere. La società creativa è solo un codice di ciò di cui parlavano. è un nome che tutti noi abbiamo insieme inventato, in realtà. Beh, come possiamo chiamarla, altrimenti? La società creativa, la costruzione di ciò che i profeti hanno realmente sognato. Ma in realtà hanno detto che dovremmo agire in questo modo e vivere così. E chi non vuole vivere così, più del 99% delle persone sognano di vivere così in questo mondo. Ragazzi, ma perché sognare se possiamo vivere così? Scusate, faccio un esempio molto semplice. Sei seduto in cucina. C'è un frigorifero al tuo fianco a portata di mano e vorresti davvero mangiare qualcosa di delizioso che è nel frigo. Quindi rimani seduto per due ore e soffri solo perché vorresti davvero mangiare una tortina o un panino. Ed è a portata di mano. Perché stai soffrendo? Apri il frigo, prenditelo e mangiatelo. Non è così? È così. E io, naturalmente, come credente ortodosso, come cristiana, posso dire che oggi solo nella società creativa è possibile attuare questi principi di un vero cristiano o di un vero musulmano. Bene, ma cosa significa musulmano? Beh, io so… Diciamo che c'è un hadith molto interessante quando al profeta fu chiesto chi fosse la sua famiglia e lui rispose che ogni persona retta è della sua famiglia. Ogni persona che ama Dio è la mia famiglia. Ogni persona che ama Dio è la mia casa. Siamo tutti una sola famiglia. Ma ci siamo divisi, capisci? O meglio, Shaitan ci ha diviso attraverso coloro che hanno il bagno sul nostro collo. Ci hanno diviso in cristiani, musulmani. C'è questa costante lotta, una lotta interiore. Lo stesso cristianesimo è stato diviso in tanti rami. L'Islam è stato diviso. Di cosa stiamo parlando? E chi li ha divisi? I vivi? Fedele al profeta e ad Allah? Chi ha diviso le nostre religioni? Chi, scusate, ha distorto le parole dei nostri profeti? E perché? Per renderle migliori per noi o per loro stessi? Una semplice domanda. Di cosa parlavano quelli stessi profeti? Parlavano della società creativa. Sognavano di questo mondo a cui hanno dedicato la loro vita. Immaginate, i migliori di noi dedicano la loro vita a noi. Chi di voi, amici, ci dedica la propria vita, a parte i figli? Siamo onesti. Noi dedichiamo la nostra vita ai nostri figli perché loro provvedano la nostra vecchiaia e perché abbiamo qualcuno da manipolare e controllare secondo le leggi dei tempi consumistici per mostrare il nostro orgoglio da qualche parte o qualcos'altro. In seguito, quando i nostri figli crescono e semplicemente smettono di ascoltarci, ci innervosiamo perché dimentichiamo che nostro figlio è un essere umano e ha il diritto di scegliere la sua vita. Non è così? È così. Eppure, cosa vogliamo? Vogliamo essere obbediti ed essere eroi. Il potere. Così questo potere e la ricerca del potere da parte dei morti hanno ostacolato la verità e l'umanità. Che hanno portato i profeti. Ed ora è arrivato il momento in cui l'umanità può scavalcare questo fenomeno morto, e venire al vivo. Non è meraviglioso? Certamente. Dopotutto, quando i profeti sono venuti, sono venuti per tutti e hanno parlato proprio di questo messaggio che le persone devono vivere nell'amore reciproco. Ho ricordato che nell'Islam che gli umani devono essere umani. Sì. Ho ricordato che nell'Islam si dice che le persone più amate di Allah sono quelle che sono più utili alle altre persone. E le azioni più amate da Allah, l'ognipotente, sono quelle che portano gioia al musulmano. fare qualcosa, cioè camminare con il mio fratello musulmano nel momento del bisogno, è meglio che rimanere appartato nella moschea per un mese. Cioè, non solo contemplare, non solo pregare, ma agire e farsi del bene a vicenda. E anche qui di nuovo, non solo pregare. Che cosa significa essere tu per tu con Allah per un mese intero? Essere nel suo amore? È proprio lo stesso amore di quando si aiuta un musulmano, cioè di quando si aiuta una persona che ama Dio perché, ancora una volta, è l'unità con Dio. Non è meraviglioso? E sapete qual è la cosa più bella, amici miei? Voglio solo dire che ora siamo passati un po' alle religioni. Ma la cosa più meravigliosa è che anche gli atei capiscono e condividono ciò di cui stiamo parlando. La cosa più interessante è che tra breve non ci sarà più un solo ateo sulla Terra in nessuno degli scenari del nostro futuro. Né nello scenario cattivo, né in quello meraviglioso per noi. Non ci sarà più nessun ateo. Igor Mikhailovich, grazie mille. Vorrei anche parlare di nuovo dell'Islam, perché nella sua essenza l'Islam persegue il suo obiettivo. Fondamentalmente, porre fine a tutti i tipi di oppressioni e di ingiustizie che si verificano a livello interpersonale, nelle relazioni tra le persone, allo stesso modo a livello globale. vorrei solo citare un hadith in cui il messaggio di Allah, pace e benedizioni di Allah siano su di lui ha detto aiuta tuo fratello che sia un oppressore o un oppresso. Ma come posso fare? Chiese una persona. Va bene aiutarlo se è oppresso, ma come aiutarlo se è un oppressore, giusto? Assolutamente giusto. Non essere la sua mano. Sì. Tutto è più semplice. Puoi aiutarlo impedendoli di opprimere gli altri. E ancora di più, quando la gente vede un oppressore, ma non gli impedisce di fare il male, è probabile che Allah li punisca tutti. Certo. Cosa significa questo? Dopotutto, siamo noi le mani di un oppressore. In questo caso, il profeta si riferiva ai tiranni che iniziano ad opprimere la gente. Ma loro opprimono la gente con le nostre mani, le nostre. Chi può opprimere con le proprie mani? Forse sua moglie o solo se glielo permette. Non è così? Se smettiamo di essere le mani e la lingua di Satana, il mondo cambierà. Quanto abbiamo tutti bisogno della società creativa. Ed è fantastico che nella società creativa abbiamo sollevato questo argomento una volta in uno dei nostri video, in cui è stato detto che verranno create tutte le condizioni più adatte perché le peggiori qualità, alcune cattive qualità di una persona, non abbiano la possibilità di manifestarsi. E questa è esattamente l'attuazione di ciò che dovrebbero essere eliminate dalla società. in fondo tutto è nelle nostre mani e possiamo fare tutto. Nella società creativa dovremmo solo incoraggiare e fare il possibile per far fiorire le migliori qualità umane, mentre si dovrebbe eliminare tutto ciò che viene dalla bestia e che è inaccettabile. E tutto andrà bene e il mondo sarà bellissimo. Sai Igor Mikhailovich, guardando il mondo in cui viviamo ora, ti rendi conto che le persone non sanno che la scelta determinante è nelle loro mani. Alcune persone credono che tutto sia predeterminato e che nulla possa essere cambiato nel loro destino. Si lamentano solo che danno la colpa di tutto al destino. Questo è il nostro destino. Amici miei, non c'è nessun destino. Se una persona è con Dio, è totalmente imprevedibile. Semplicemente vive. È il diavolo che ha fatto un programma di vita per il suo schiavo. Ma anche questo non è il destino. È un programma fatto dal diavolo, no? Basta che una persona smetta di giocare con il suo shaitan e cominci ad amare veramente Dio. E tutto cambierà. Letteralmente tutto. E la vita cambierà perché come dentro, così fuori. Se sei schiavo dentro, se vivi nel male, ci sarà il male intorno a te. Di nuovo, non importa come lo guardi. Se vuoi cambiare il mondo, inizia da te stesso. Perché? Perché puoi cambiare una parte enorme di questo mondo. Non è così? Perché ognuno di noi pensa di essere un'enorme parte del mondo. Quindi cambiamo prima una parte enorme del mondo noi stessi e poi cambiamo ciò che rimane, cioè il resto del mondo. Questo è egoismo, amici. Purtroppo, ma è così. Ognuno di noi pensa a se stesso come a una parte enorme di questo mondo. E cambiando noi stessi, guardate com'è facile cambiare il mondo. È una battuta, ma è vero. È importante rendersi conto che Dio ha dato alle persone tutto per la vita. Ma Satana lo ha usurpato. Quindi dovremmo semplicemente riprenderci tutto. Ha usurpato tutto attraverso i nostri pensieri e attraverso le nostre azioni. Ma ogni azione ha un pensiero come precursore. Dobbiamo quindi catturare Satana nei nostri pensieri e cacciarlo via da lì. Allora non ci saranno cattive azioni. Guardate com'è semplice tutto. Se ognuno inizia a lavorare su se stesso, se ognuno rifiuta di servire Satana, Dio regnerà nelle nostre anime e in questo mondo. È semplice, amici. Davvero semplice. Tutti noi, chiunque siamo, a qualunque religione apparteniamo o se siamo semplicemente atei, come molti di noi, vogliamo vivere in un mondo buono e bello. Un mondo dove fiorisce l'amore di Dio. Dopotutto, questo è meraviglioso, anche se sei ateo. O scusate, dove l'odio di Satana domina tutti. Quale mondo è il migliore? È di questo che sto parlando. La metterò in questo modo. Il più grande ateo di questo mondo è l'essere umano, ma non Satana. È l'umano che nega Dio per servire Satana, mentre Satana sa meglio di chiunque altro che Dio esiste. Pensateci, amici. Sì, il desiderio è quello di vivere in un mondo in cui fioriscono l'amore e la verità di Dio. Ma la verità è che insieme possiamo fare tutto, ma da sole possiamo solo servire Satana. Non dimenticatelo, amici. È a questo che serve all'altra, perché noi stiamo insieme e, come ci hanno detto i nostri profeti, siamo uguali, né superiori né inferiori agli altri. E ci trattiamo tutti con amore. Questo è l'essenza dell'altra stessa. Sapete, in effetti, questo evento che è veramente significativo si sta verificando ora nel nostro tempo. La sua essenza sta proprio nel fatto che noi, gente, noi, umanità, ci rivolgiamo verso i nostri profeti. Volgiamo le spalle a Satana e ci rivolgiamo verso Dio. non è meraviglioso? È davvero meraviglioso, amici. Sapete, è davvero l'evento che cambierà gradualmente il mondo. Ho osservato un fenomeno, scusate, sto divagando. Nel mio cortile ho messo un sasso nel giardino anteriore ed era proprio triste. Ho preso, sapete, una di quelle cose che chiamiamo muschio, una specie di erba. Ne ho preso solo un po' e l'ho messo in una fessura. Sapete cosa ho visto? Ho visto come stava crescendo. Alla fine è diventato un bel sasso molto interessante. A poco a poco, solo un po', ma piano piano ha coperto praticamente tutto il sasso. Dopotutto basta applicare un po' di sforzo e il nostro pianeta diventerà di nuovo verde, no? È ancora più bello. Intendo sia dal punto di vista ambientale che da quello umano e diventerà confortevole e perfetto per la vita sotto ogni aspetto. Tutto questo, amici, è nelle nostre mani. Per questo basta poco, applicare un po', un pizzico di sforzo, poco poco, e tutto cambierà. Questo è vero. Grazie a tutti. Grazie a tutti.